Il celebre attore Francesco Nuti è morto all'età di 68 anni. La triste notizia è stata annunciata dalla figlia Ginevra e dalla famiglia. Nuti è deceduto questa mattina dopo una lunga malattia. Ginevra insieme ai suoi cari ha voluto condividere la notizia esprimendo la gratitudine al personale sanitario e a tutti coloro che hanno assistito l'attore durante il periodo difficile della sua malattia in particolare al personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore. La famiglia tramite un comunicato chiede rispetto per il loro momento di profondo dolore e quindi ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Nuti è stato re dei botteghini anni 80 con film come Tutta colpa del paradiso. Caruso Paskoschi di Padre Polacco e Willy Signori, vengo da lontano.